ma si è rotto il telefono si è rotto ma non ricevo più notifiche e cioè sono rimasto un paio di giorni un po fuori dal dal tunnel dal giro per ovvie ovvie diciamo così impegni di lavoro ma porca miseria ho detto mi arriveranno le notifiche nuovi video nuove cose porca miseria tutto fermo è tutto fermo basta che mi allontano un attimo si ferma tutto nessuno fa più video contro di me ma come è possibile ragazzi ma io sono sono andato via un attimo e non è che allora guarda facciamo una cosa adesso su due piedi non è che mi viene in mente no perché pensavo che si era rotto il telefono detto porca miseria ma qui nessuno più fa 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 casini fa fa no allora mi viene subito ecco adesso mi viene l'argomento è perché questo sarà un argomento farò succede un macello un macello succederà ragazzi tenetevi forte facciamo un argomento così il primo che mi viene tanto alla fine qualsiasi cosa che mi viene in mente spacca tutto dunque eccolo ricetta delle pennette al salmone allora qua insorgeranno tutti e ragà state attenti perché quello che dico mi raccomando le parole pesate le perché qua succede un macello ricetta delle pennette al salmone prendete una bella pentola e riempitela d'acqua quanto costa l'acqua l'acqua libera spettro apre l'acqua come se fosse niente l'acqua sta finendo nel mondo vabbè andiamo avanti mettete un pugnetto di sale qui pure quelli che vanno contro il sale succederà un macello spettro il sale ti indurisce le vene ti fa venire il cuore te lo spacca a metà ma io continuerò fino alla fine della ricetta ragazzi non mi fermerò non mi fermerò perché questa volta vado fino in fondo e faccio succedere il delirio assoluto perché quando si muove spettro il web trema tremano tutti tutti tremano allora andiamo avanti prendete una padella qua viene un pezzo che cominciamo a entrare proprio nel vivo della rivoluzione dei del punto di riferimento di tutti gli youtuber allora prendete la padella mettete dell'olio un po' di cipolla e fate soffriggerla la dovete far soffriggere bene 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 perché così si c'è un bel sapore di soffritto qui i nutrizionisti spettro sei un bastardo perché tu stai consigliando di fare il soffritto che fa male il fritto friggere la cipolla fa male fa male tu sei un bastardo vuoi avvelenare tutta l'umanità e spettro vuoi avvelenare l'umanità allora io niente imperterrito vado avanti vado avanti prendete un salmone affumicato lo fate a pezzettini e lo buttate nella pentola per friggerlo qui gli animalisti faranno macello bellissimo già mi sto agitando qui gli animalisti faranno una carneficina di spettro sei un balordo spettro tu prendi quel povero salmone affumicato lo tagli a pezzettini lo butti nella padella e lo friggi che fa male lì sarà supportato anche tutto ciò sarà supportato anche tutti insieme diventerà faranno una coalizione forse di più persone per per questo video che sto facendo una volta buttato il salmone i derivati i derivati degli animali continuiamo con questo questo tema che è scottante la panna buttiamo un po di panna e facciamo mantecare i le pennette bianche per i razzisti giustamente che devono distruggermi e quindi è questo il discorso perché ho detto pennette bianche no attenzione non pennette nere pennette bianche così creo ancora di più il patos razzismi e cose di questo genere pennette bianche e fate mantecare tutto ce l'ho fatta ce l'ho fatta voglio qualcuno diceva molti grandi della storia dicevano nel bene o nel male purché se ne parli purché se ne parli questi erano dei grandi della storia che hanno fatto la storia e non è uno è più di uno l'ha detta questa frase è un proverbio un modo un modo di dire che comunque è stato appunto detto da più personaggi della della storia io che sono musicista e qua insorgeranno anche i musicisti e spettro ha detto che un musicista ma sì 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 anni ogni ogni mio video deve fare un po di rumore per che se è un lago acqua si sta stagnando se io manco poi tutto quiete tutta è brutto no ragazzi allora io che sono musicista dico vorrei dire un'altra frase una frase che si diceva a sanremo mi sembra che la disse chiambretti se non vado errato perdonatemi non mi ricordo bene per quanto si diceva perché sanremo è sanremo e chiambretti disse penso che era chiambretti non lo so e disse comunque vada sarà un successo anche se sanremo non piace se sanremo porta tante polemiche comunque vada saremo sarà un successo allora voglio fare mia questa frase questo video comunque vada è un video di spettro e comunque vada sarà un successo ciao ragazzi grazie